buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo arriete abbiate cura di voi stessi e delle vostre cose toro giove vi offre nuove opportunità soprattutto di ricevere nuove energie gemelli tiratevi su e cercate di fare buon viso a cattivo gioco cancro abbiate cura delle vostre cose in questo periodo state trascurando quelle importanti leone state andando nella direzione sbagliata in amore soprattutto frenate vergine cercate di sistemare al più presto una situazione e moderatevi sulle spese bilancia affronta gli ostacoli direttamente non fuggire davanti alle difficoltà scorpione giorno gioioso fortuna in amore e al gioco sagittario una speranza che riponevate in alcune persone andrà vana e ne eseguirà qualche problema capricorno non precipitate le cose la fretta non serve dovete restare calmi acquario giorno fruttuoso passa la serata in compagnia di persone allegre pesci vi sentirete agitati senza motivo e senza una vera ragione questo è tutto a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo grazie a tutti